Picciotti, bentornati su MyAnimeAcademia. Oggi torniamo a parlare di One Piece e parliamo delle differenze tra il live action e il manga. Oggi andrò ad analizzare tutte le differenze episodio per episodio, partendo chiaramente dall'episodio 1, che ci sono tra il live action e il manga. Questo perché, insomma, sono stati fatti molti cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la trama, per via del fatto che, insomma, si doveva un po' andare veloce, ci sono stati delle modifiche proprio per quanto riguarda gli avvenimenti che ci sono nella saga dell'East Blue. Però, in ogni caso, ci tengo a precisare che sono comunque dei cambiamenti voluti, non si tratta di errori dell'live action. Oggi non andiamo a parlare degli errori, andiamo a parlare semplicemente di ciò che è stato modificato, facendo le dovute osservazioni. Quindi, partiamo. E partiamo chiaramente dall'episodio 1. La prima differenza tra live action e manga si ha proprio al principio, durante l'esecuzione di Goldie Roger. Nel manga, Roger è da solo, diciamo, soltanto con coloro, con i boia, con coloro che praticamente eseguiranno l'esecuzione, e con il pubblico di fronte. Mentre nel live action, lì con lui c'è Garp. Garp, in realtà, nel manga non c'è. Lo vediamo poi più avanti a Marineford in un flashback, flashback in cui Roger gli affiderà Ace prima di andare al patibolo. Quindi questa è una novità, come di fatto tutta la caratterizzazione di Garp per tutto il live action, che sarà molto, molto ampia. Proseguiamo con l'episodio e vediamo proprio il momento in cui Luffy si avventura in mare aperto, con la sua barchetta minuscola. E qui c'è un'altra differenza. Nel live action, Luffy parla con un gabbiano. Non è però un gabbiano normale. È un gabbiano del Big News Morgans. E lo possiamo notare dalla tracolla che ha, insomma, sul collo, e dal giornale che porta sotto l'ala. Nel manga, questo dialogo con il gabbiano non c'è completamente. Ci sono soltanto dei gabbiani normali che volano sulla testa di Luffy. Mentre nell'anime, effettivamente, c'è questo dialogo un po' comico con un gabbiano, che però è un gabbiano normale. Quindi, né nel manga, né nell'anime, Luffy parla con un gabbiano della redazione di Morgans. Abbiamo poi la presentazione di Alvida. Nel live action vediamo che la ciurma di Alvida salta un'altra nave. E poi vediamo addirittura Alvida uccidere un uomo con il suo manico a forma di anatra. Ecco, già questa è una costante che si ripeterà per tutto il live action. La crudezza dei combattimenti è una novità in generale. Però, per quanto riguarda Alvida, insomma, non c'è nel manga nessun assalto a nessun'altra nave pirata. Ma la vera modifica nel frangente di Alvida è appunto la presentazione, diciamo, di Luffy. Perché nel live action Luffy viene recuperato dai pirati di Alvida, che non sanno, ovviamente, che all'interno del barile ci sia una persona. E poi, durante la notte, Luffy esce dal barile quando si trova sulla stiva della nave e inizia a dialogare con Kobe, i due si raccontano il proprio sogno, eccetera, eccetera. Poi, i due salgono sul ponte, Luffy fa un rumore, sveglia tutti, ed è così che si accorgono dell'intruso, tra virgolette. Nel manga, invece, la situazione è un po' diversa. Perché, fin da quando il barile viene raccorto e viene portato a bordo, Luffy si libera davanti a tutti, urlando di gioia perché finalmente è libero, ed è lì che si accorgono di lui. Alvida poi lo sbalza via per una serie di motivi. Quindi Luffy e Kobe, a quel punto, hanno il tempo di dialogare fino a quando non arriva Alvida e da lì inizierà il combattimento. Tra l'altro c'è anche un frangente in cui Kobe si libera per tutte le cose represse che si è dovuto tenere ai tempi di... insomma, in cui ha fatto il mozzo di Alvida e quindi insulta anche pesantemente Alvida mazzachiodata. E poi c'è tutto il combattimento, insomma, con Alvida che viene spazzata via. Altro elemento di differenza, Zoro contro Mr. Seven. Nel manga il combattimento non viene mai mostrato. L'unica menzione viene fatta da Mr. One ad Arabasta, componente della Baroque Works chiaramente, e viene detto, insomma, che Zoro ha ucciso questo Mr. Seven. Nell'ave action invece vediamo proprio il combattimento, e tra l'altro è molto crudo perché si conclude con l'uccisione di Mr. Seven che viene tranciato di netto in due. Ma la prossima differenza di cui vi parlerò riguarda la prima parte del flashback relativo al villaggio Fusha, quindi il flashback tra Luffy e Shanks. In qualche modo ho notato che c'è un modo differente di rappresentare la comicità di Shanks. Perché la comicità di Shanks nel live action è una comicità molto più, diciamo, paterna, molto più premurosa. In qualche modo Shanks prende in giro Luffy, sì, per il fatto che è un bambino, però lo fa in maniera molto dolce per certi versi. A un certo punto, per esempio, gli dice che non ha bisogno di un'ancora. Questo perché Luffy aveva il disegnino dell'ancora sulla magliettina. Quindi sì, è una presa in giro, ma non come quelle del manga. Perché nel manga Shanks gioca molto sporco, ed è Luffy stesso che glielo dice. C'è una scena, infatti, in cui, insomma, Luffy continua a dire Io sono un uomo, io voglio venire con te, portami con te. A un certo punto Shanks gli offre del succo, Luffy lo beve e Shanks lo prende in giro perché proprio come un bambino sta bevendo del succo. Quindi è molto più demenziale la scena. E si nota di più come Shanks sia in realtà molto subdolo da quel punto di vista. Ma la cosa più importante, la differenza più importante per quanto riguarda il flashback di Fushia sta nel frutto gum gum. Perché nel live action vediamo che quando Luffy mangia il frutto, aprendo il cofanetto all'interno del quale il frutto è rinchiuso, vediamo il simbolo della marina. Quindi effettivamente, sin da subito, veniamo a sapere che quel frutto è stato preso dal governo. Cosa che in realtà nel manga abbiamo saputo soltanto da pochissimi capitoli. Quindi questo poi va chiaramente a giustificare la reazione di Shanks quando scopre che Luffy ha mangiato il frutto, che è molto più seria di quella, insomma, del manga. Perché, chiaramente, in questo caso, nel live action, sappiamo fin dall'inizio dell'importanza del frutto che è appena stato mangiato da un bambino piccolo. Un'altra differenza abbastanza enorme sta proprio nell'ingresso di Zoro in ciurma. Ecco, Luffy e Kobe conoscono Zoro nel live action in un bar di Shellstown. In pratica i due vedono il litigio tra Zoro e del Meppo. Zoro stava difendendo Rika perché, per sbaglio, il Meppo aveva fatto cadere il suo cibo a terra. E quindi Zoro inizia, insomma, a malmenare il Meppo, altri Marines, e per punizione viene arrestato e viene messo nel cortile della base di Morgan Manodasha. Poi a quel punto, quando Luffy andrà da lui, la liberazione di Zoro sarà totalmente casuale, perché la verità è che Luffy è andato lì per entrare nella base di Morgan e rubare la mappa. Ma, in realtà, non è quello che succede nel manga. Nel manga, Luffy e Kobe conoscono Zoro già legato nel cortile di Morgan. Poi, una volta che hanno assistito alla scena di Rika che gli porta agli onigiri, rischiando di essere beccata, e infatti viene beccata dal Meppo che la caccia via in malo modo, Luffy e Kobe poi si dirigono al bar di Shellstown ed è lì che Rika e la proprietaria del bar raccontano a Luffy e a Kobe come stanno le cose. Cioè che Zoro è stato arrestato perché, sostanzialmente, aveva ucciso il lupo di El Meppo per salvare Rika, perché il lupo aveva aggredito la bambina e Zoro, per salvarla, aveva ucciso il lupo. Per quello è stato rinchiuso nel cortile. Allora, qui Luffy si fa un'idea dell'onestà di Zoro, della caratura dell'uomo di Zoro, e decide di andare al cortile di Morgan per liberare Zoro e renderlo il suo compagno di Shurma. Quindi non è che va lì e per caso si becca lì Zoro e lo libera così, per favore. Infatti, il motivo vero e proprio per il quale poi Luffy entra nella base di Morgan in mano d'ascia è per recuperare le spade di Zoro che El Meppo gli aveva confiscato, e non per prendere la mappa della Grand Line. E poi la cosa divertente è che poi praticamente Luffy, quando si infiltra per recuperare le spade di Zoro, lo ricatta. Di fatto gli dice, io recupero le tue spade, il tuo tesoro, perché la Wado Ichimonji è il tesoro di Zoro, e tu entri a far parte della mia ciurma. Quindi c'è questo piccolo scambio di battute, molto divertente, dove di fatto non è che Zoro, come succede nell'ivection, si unisce a Luffy per ricambiare il suo favore di averlo liberato. Semplicemente è costretto dal patto, essendo un uomo di parola e un uomo integro. E poi un'altra differenza sta proprio nel momento in cui Zoro viene liberato, perché Zoro, che precedentemente nell'ivection era stato schernito da El Meppo, torna da lui e gli taglia i capelli per umiliarlo, e quindi gli, insomma, gli esegue un'acconciatura ridicola. Ecco, la differenza sta nel fatto che nel manga, invece, El Meppo, quando si presenta, ha già quell'acconciatura, quindi parte già con quell'acconciatura ridicola. E semmai sarà successivamente, quando diventerà un Marine bravo assieme a Kobe, che avrà i capelli lunghi, perché se li farà allungare. E qui si arriva, infatti, all'introduzione anche di Nami, perché mentre Luffy si infiltra, diciamo, nella base di Morgan, incontra Nami. Nami che è lì per lo stesso obiettivo di Luffy, cioè rubare la mappa della Grand Line. E quindi questo va poi a, insomma, evolversi al combattimento finale contro Morgan, dove anche Nami prende parte, perché ci sono Luffy, Zoro e Nami contro Morgan. Nel manga le cose vanno abbastanza diversamente, perché in realtà, quando Luffy incontra Nami, Nami ha già la mappa, perché l'ha rubata da Buggy. Però c'è da dire che comunque la scena in cui Nami prende in giro i due pirati di Buggy e fa lo scambio di nave, quella è fedelissima al manga uno a uno, solo che non accade a Shellstown. Tra l'altro, l'ingresso di Nami nel manga denota molto di più la sua, diciamo, attitudine ad essere una ladra. E lo vedremo tra poco con le differenze del secondo episodio. Bene, parliamo adesso del secondo episodio. Il secondo episodio si apre con la scena dei Mugiwara, quindi di Luffy, Zoro e Nami, che vengono rapiti dai pirati di Buggy. E, in qualche modo, Zoro e Nami vengono messi in una stanza a parte, rinchiusi, mentre Luffy viene tenuto nella sala principale del circo da Buggy, con tutti i civili di Orange Town come spettatori, e viene torturato, affinché gli dica dove ha messo la mappa della Grand Line. Nel manga non è affatto così. Innanzitutto, il circo è qualcosa di completamente diverso, perché qui abbiamo nell'Ivection una rappresentazione molto più cupa. I civili sono totalmente assoggettati, sono sotto pressione, Buggy, con i suoi cartelli, intima loro di applaudire a comando, di ridere a comando. Quindi la situazione è molto più, molto più cupa, molto più tetra, rispetto a quella che è nel manga. Inoltre, in realtà, nel manga, come vi ho anticipato poc'anzi, Nami aveva la mappa della Grand Line, e l'aveva rubata proprio da Buggy. Infatti, nel manga non è che i tre vengono rapiti e Luffy viene torturato, e Nami che inganna Luffy, rivelando già dall'inizio la sua natura truffaldina, lo lega, lo porta da Buggy e gli dice lui è il capo che mi aveva ordinato di rubarti la mappa, prenditela con lui, ti ho portato il mio capo e ti ho portato la mappa. Perché Nami lo fa? Perché, insomma, ha usato Luffy come usa tutti quanti in quel determinato periodo storico e vuole, di fatto, rubare i tesori di Buggy mentre è distratto dal prendersela con Luffy e scappare via con i tesori e guadagnarci. Quindi lo fa per il suo tornaconto. E nel manga, Luffy non viene rinchiuso all'interno di una teca e non viene immerso nell'acqua, quindi non rischia di annegare. Viene, semmai, rinchiuso in una gabbia e poi Buggy chiede a Nami di sparargli un colpo di cannone e ucciderlo come prova della sua lealtà. Altra differenza, chiaramente, è il setting esterno di Orange Town. Nel live action appare tutto quanto distrutto per colpa di Buggy ma questo, in realtà, nel manga non c'è. O meglio, accade dopo. Cioè, Buggy utilizza le buggy ball sulle case dei civili distruggendone un bel po'. Però non c'è quella situazione pregressa di devastazione di distopia, ecco. Quindi c'è abbastanza differenza tra la rappresentazione sia del setting esterno di Orange Town sia del circo. Il tutto poi culmina nello scontro di Buggy ma prima di parlare di questo parliamo del fatto che Zoro non ha il combattimento con Kabaji nel live action. Perché nell'live action Kabaji addirittura c'è questa differenza piccolo dettaglio che però nel manga non c'è Kabaji ce l'ha con Zoro da tempo perché gli ha ucciso il fratello. Elemento che nel manga non esiste però, onestamente, ho trovato un po' strano che nonostante abbiano rappresentato questo legame che addirittura era pregresso in realtà poi non abbiano fatto lo scontro. C'erano più motivi di fare lo scontro visto che c'era qualcosa un conto in sospeso, diciamo e invece lo scontro non è stato fatto Kabaji è stato steso con un colpo e poi Zoro ha contribuito nella sconfitta di Buggy. Sconfitta di Buggy che, sì, è stata comica nel live action ma non quanto nel manga perché nel live action, insomma, i tre Luffy, Nami e Zoro hanno collaborato poi, insomma, man mano che Buggy utilizzava il frutto puzzle puzzle e scomponeva il suo corpo in tanti pezzi tutte le varie parti del suo corpo venivano rinchiuse nelle casse fino a quando non è rimasto piccolissimo ed è stato spedito via insomma, lontano. Nel manga non è proprio così cioè, la parte finale chiaramente è fedele però c'è molta più comicità perché nel frattempo che Buggy scompone il suo corpo ricordiamo che nel manga i suoi piedi non possono lasciare il terreno quindi cos'è che fa Luffy? Inizia a prendere i piedi e gli fa il solletico quindi Buggy inizia a ridere non riesce a concentrarsi dal cacciare Nami che sta scappando con i tesori e quindi la cosa è molto più divertente perché poi a un certo punto Luffy gli dà anche un calcio ai gioielli di famiglia quindi lo scontro nel manga è molto più demenziale molto più divertente poi a un certo punto legano le sue parti del corpo tutte in una palla e lo spediscono via malissimo andando avanti abbiamo la continuazione del flashback del villaggio Fuscia e qui abbiamo delle differenze tra live action e manga per quanto riguarda la ciurma di Shanks che affronta i banditi di Guma una volta che hanno catturato Luffy allora nella live action Shanks arriva e c'è la classica scena del bandito che gli punta la pistola Shanks cos'è che fa? Mima il colpo di pistola col dito e quando fa bang con la mano arriva lo sparo dalle retrovie di Lachiru che uccide quell'uomo insomma la scena nella live action è più demenziale che nel manga per una volta in live action è stato più demenziale anche perché poi c'è la scena in cui Yasup gioca con il suo nemico perché finge di sparargli poi si ferma e dice no aspetta com'è che posso sparargli con più creatività e allora mira al palo e fa sì che la pallotto la rimbalzi in due parti diverse prima di colpire l'avversario per flexare la sua bravura da cecchino insomma quindi nel live action è più demenziale nel manga la situazione è molto più seria perché fino a quel momento Shanks aveva dimostrato soltanto di essere scansonato divertente eccetera quello è uno dei pochissimi momenti del flashback in cui invece è serio perché stanno maltrattando un suo amico hanno rapito un bambino e allora la scena si evolve in maniera diversa perché Shanks arriva davanti al bandito che gli punta la pistola alla tempia e Shanks gli dice guarda che stai usando la pistola nel modo sbagliato perché nel momento in cui punti la pistola alla tempia di una persona devi essere pronto ad averne un'altra puntata su di te e infatti in quel momento la Kiru gli spara tuttavia ci sono tre elementi oltre a queste differenze che nel live action sono totalmente assenti mentre nel manga sono diciamo delle parti centrali di questa saga innanzitutto non viene rappresentato il flashback relativo a quando Buggy e Shanks erano compagni di Sur ma nella nave di Roger ma noi all'epoca non lo sapevamo ancora erano entrambi dei mozzi e Buggy ha mangiato per sbaglio il frutto del diavolo per via di un colpo di spavento che gli ha fatto venire Shanks ecco all'inizio noi sapevamo che Buggy ce l'avesse con Shanks per questo motivo però il loro flashback nel live action non viene rappresentato così come non viene rappresentata la storia di Chou Chou il cagnolino tra l'altro molto molto bella una delle mie storie preferite veramente le lacrime in quella parte di manga impressionanti Chou Chou il cagnolino che protegge la baracca del suo padroncino perché non torna da diverso tempo però lui sta sempre lì a proteggerla e ad aspettare il suo padroncino che ritorni insomma e lì abbiamo il momento in cui i moji tirapiedi di Buggy assieme a Richie leone gigante distruggono quella baracca e allora Luffy per vendicare il cagnolino gli dà una lezione e poi regala al cagnolino l'ultima scatoletta di croccantini rimasta ecco questa bellissima storia molto commovente nel live action non c'è Chou Chou comunque c'è perché a un certo punto per qualche secondo appare però ecco la storia non c'è il terzo elemento è proprio il sindaco il sindaco c'è nel live action e contribuisce alle torture di Luffy su ordine chiaramente di Buggy ma non ha la centralità che ha nel manga perché nel manga viene ovviamente dipinto come un bravo uomo molto debole che non può chiaramente opporsi a Buggy però a un certo punto si prende di coraggio perché dice io non posso lasciare che dei ragazzini pirati facciano quello che dovrei fare io cioè scacciare via Buggy allora si arma a modo suo va ad affrontare Buggy ma poi Luffy lo ferma perché dice ma dove vuoi andare cioè sei debole ed è meglio che non ti cacci nei guai quindi c'è il sindaco nell'live action ma manca la sua centralità bene proseguiamo dunque con le differenze relative al terzo episodio partiamo proprio dall'inizio perché la prima differenza tra live action e manga si ha nel motivo per cui i Mugiwara raggiungono Shiropp Village nel manga praticamente hanno bisogno di rifornirsi e hanno bisogno anche di guadagnare del tempo per capire se è il caso di affrontare adesso la Grand Line e Nami dice nel caso non sarebbe male se trovassimo una nuova nave mentre nell'live action il motivo è proprio la nave i nostri cercano una nuova nave e quindi si recano a Shiropp Village perché hanno sentito che lì ci sono delle ottime navi questa può sembrare una differenza banale in realtà non lo è perché va poi a cambiare l'assegnazione della Mary perché nell'live action la Mary viene presentata all'inizio ai nostri Mugiwara Luffy la vede se ne innamora e poi insomma fa una scommessa con Nami insomma vogliono quella nave fin dall'inizio mentre nel manga i nostri non conoscono la Mary dall'inizio la vedono per la prima volta soltanto alla fine della loro avventura a Shiropp quando Kaya gliela regala la prossima differenza riguarda proprio Usopp in prima persona diciamo il fiore all'occhiello del di Shiropp Village perché mancano i suoi compagni di ciurma cipolla Carota e Peperone i tre bambini che praticamente scorrazzano assieme a lui e lo seguono qualsiasi cosa faccia questa può sembrare una banalità in realtà i tre bambini nel manga hanno un ruolo fondamentale cioè denotano l'incredibile fanciullino che dimora all'interno di Usopp perché Usopp si vede palesemente da Shiropp Village nel manga è un eterno fanciullo è un Peter Pan di turno un ragazzino dentro che però si ritrova a dover fare i conti con l'adolescenza e si sta insomma sta per accingersi a diventare adulto quindi c'è questo contrasto tra la realtà e il suo sentirsi sempre un bambino che dice bugie eccetera eccetera quindi mancando questi tre bambini forse viene un po' meno quel fanciullino di Usopp altra differenza in questo episodio è chiaramente il dialogo tra Kurobi scagnozzo di Arlong e Buggy Kurobi si rega direttamente da Buggy per portargli un messaggio da parte di Arlong nel live action chiaramente e questo nel manga non succede perché Buggy e Arlong non hanno mai avuto a che fare l'uno con l'altro quindi questa parte nel manga è totalmente assente e iniziamo ad immergerci nella trama vera e propria di Shirov Village perché la differenza che sto per dirvi riguarda proprio Usopp Kaya e Kraedor il maggiordomo di Kaya che poi in futuro si rivelerà capitano Kuro l'accoglienza di Mugiwara è una grande differenza nel live action i Mugiwara vengono accolti sì con una certa ostilità però in realtà anche se Kraedor o Capitan Kuro che dir si voglia li accoglie con un po' di puzza sotto al naso è un po' duro ma non è granché severo mentre nel manga li accoglie veramente in malo modo tant'è che inizia a provocare ad insultare Usopp davanti a Kaya fino a quando Usopp spazientito non praticamente non lo aggredisce con un pugno quindi Kraador nel manga cerca di provocare Usopp per fargli fare la reazione per far vedere a Kaya hai visto è un tipo violento di cui non ci si può fidare quindi piccola differenza che però denota molto meglio quanto sia subdolo come personaggio Capitan Kuro tra l'altro questa differenza ci porta direttamente alla prossima perché in occasione della violenza di Usopp dimostrata nei confronti di Kraador Usopp rivendica di essere un selvaggio rivendica di essere un figlio di un pirata e questo ci porta alla differenza cioè Luffy che riconosce il modo di fare di Usopp e lo ricollega a Yasopp quindi il momento nel manga in cui Luffy capisce che Usopp è il figlio di Yasopp è quello in cui Usopp rivendica di essere il figlio di un pirata mentre nella live action la cosa viene scoperta da Luffy così in una chiacchierata all'interno della sezione cucina della villa di Kaya mentre parlano del più e del meno ah e a proposito della villa a differenza della live action nel manga i Mugiwara non vengono mai invitati a cenare assieme a Kaya all'interno della villa mentre nella live action questo succede ed entriamo nel vivo del personaggio di Capitan Kuro perché nella live action lui viene scoperto da Zoro e da Usopp in occasione del ritrovamento del cadavere di Merry mentre nel manga sono Luffy e Usopp che scoprono il piano malefico di Kuro origliando la sua conversazione con Django e a proposito di questo il personaggio di Django nella live action non c'è però c'è comunque il suo manifesto che viene mostrato in un secondo momento altra differenza tra live action e manga è il rapporto che nella live action si viene a creare tra Nami e Kaya parallelamente a quello che si viene a creare tra Zoro Luffy ed Usopp perché c'è questa sorta di interrogatorio tra le parti cioè Nami interroga Kaya su quello che prova verso Usopp e Zoro e Luffy interrogano Usopp su quello che prova verso Kaya quindi c'è una sorta di dichiarazione d'amore a distanza tra i due perché entrambi si piacciono ma sono convinti del fatto che il prossimo non corrisponda quindi molto bella questa parte per quanto non ci sia nel manga fa comunque capire pone le basi per farci capire che c'è qualcosa di più di un'amicizia tra Usopp e Kaya un'altra differenza tra live action e manga sta nel modo in cui Luffy viene messo per un certo periodo di tempo fuori combattimento prima dello scontro finale con Kuro perché nel live action Luffy beve una pozione diciamo avvelenata destinata a Kaya la beve tutta assieme e viene avvelenato appunto e perde i sensi per un certo periodo di tempo fino a quando non si riprende e va a combattere contro Kuro ecco nel manga anche lì viene messo KO ma per un motivo diverso perché viene praticamente ipnotizzato da Jango quindi per un piccolo periodo di tempo rimane inattivo tra l'altro anche per quanto riguarda il combattimento finale ci sono delle differenze innanzitutto perché il combattimento nella live action tra Luffy e Kuro si tiene all'interno della villa di Kaya che viene praticamente blindata e non permette a nessuno di uscire mentre nel manga si svolge all'aperto inoltre Sham e Buchi tirapiedi di Capitan Kuro nel manga sono insomma esterni alla situazione ed intervengono soltanto nel momento in cui insomma arriva il famigerato momento di attuare il piano per uccidere Kaya mentre nella live action fanno parte della servitù di Kaya stessa quindi sono dentro al piano fin dall'inizio ma passiamo all'episodio 4 che è di fatto la continuazione dell'arco di Shirov Village che inizia proprio con come dire lo sconforto di Usopp che capisce di non poter contare su nessuno e nella live action coloro che arrivano principalmente all'inizio in suo soccorso sono proprio i Marine Kobi e del Meppo e qui c'è subito la prima differenza tra live action e manga perché nel live action Kobi e del Meppo assieme ad altri Marines fanno un sopralluogo nella villa per capire se tutto è a posto cosa che nel manga non succede perché le prime persone a cui va a chiedere aiuto Usopp sono proprio Luffy Zoro e Nami la prossima differenza riguarda Zoro perché nel live action prima del combattimento finale con Kuro Zoro insomma sviene per via di un colpo ricevuto e viene gettato in un pozzo assieme al cadavere di Mary questa cosa nel manga non succede perché nel manga Zoro si unisce al combattimento finale pur non combattendo contro Kuro però è una buonissima occasione per mostrarci il suo flashback flashback che è molto fedele a quello del manga tranne in una piccola cosa che avrei apprezzato che non ci fosse cioè nel manga Zoro nel momento in cui apprende della morte di Kuina se la prende con lei è pur sempre un bambino se la prende con lei vehementemente dicendole è così che mantieni la nostra promessa te ne sei andata sei scappata questa cosa nel live action non c'è e diciamo che questa parte qui in cui Zoro è fin troppo posato fin troppo impostato rende il tutto un po' troppo teatrale quindi peccato per questa piccola differenza e a proposito del reveal della doppia personalità diciamo di Krahador come capitano Kuro nel live action Kaya viene a sapere di questa cosa da Usopp e da Nami mentre nel manga non è così nel manga viene a saperlo proprio da Merry nel momento in cui lo trova in condizioni pietose tra l'altro nell'ivection scopriamo che la malattia di Kaya è continuamente causata e alimentata dal veleno che Kuro e il suo staff mettono nei suoi pasti mentre nel manga questa cosa non esiste però c'è da dire che non è una scelta del tutto distante da quella che è la realtà perché la verità è che Kaya nel momento in cui ha perso i suoi genitori sì si è ammalata però a contribuire ad aumentare la sua ansia le sue preoccupazioni costanti è stata proprio la presenza di Kuro che fisicamente la teneva sotto controllo la metteva sotto pressione e quindi le causava dello stress quindi ho apprezzato la scelta di rendere Kuro proprio il protagonista della malattia di Kaya nel live action inoltre e altra piccola differenza nel manga quando Usopp rivela le intenzioni di Kuro Kaya che ovviamente all'inizio non ci crede gli dà un ceffone e Usopp scappa via perché capisce che è inutile tentare di dialogare e va a cercare aiuto mentre nel live action dice no io rimango qui per dimostrarti che ti proteggerò fino alla fine e a proposito di Merry la grandissima differenza su di lui è che appunto nel live action muore veramente mentre nel manga si salva molti fan si sono lamentati di questa differenza io in verità la trovo molto più sensata cioè trovo molto più sensato che Merry sia veramente morto perché ragazzi parliamoci chiaro ma chi è che chiamerebbe una nave con il nome di una persona ancora viva cioè è un po' strano un'altra differenza riguarda a proposito della nave il Jolly Roger dei Mugiwara perché nel manga il Jolly Roger viene creato da Usopp nel momento in cui entra in ciurma quindi prima di andare ad Arlong Park e scoprire la vera storia di Nami mentre nell'ive action il Jolly Roger viene disegnato da Usopp dopo Arlong Park e ho trovato questa scelta molto azzeccata perché simbolicamente è come se la vera ciurma di Mugiwara si formasse dopo che ogni filtro ogni qualsivoglia sovrastruttura è crollata da ogni personaggio soprattutto da Nami perché tutte le sue sovrastrutture causate dai problemi di Arlong le impedivano di essere vera quindi ho apprezzato moltissimo il fatto che il Jolly Roger sia arrivato quando ogni Mugiwara era vero e quindi è vera anche la fondazione penultima differenza di questo episodio è l'arrivo di Garp che intralcia i Mugiwara e ha un vero e proprio scontro con loro rivelando di essere il nonno di Luffy e iniziando a lanciare palle di cannone a mani nude nel manga in realtà questa scena accade nel post Ennis Lobby quindi molto dopo e poi per concludere in bellezza queste differenze tra live action e manga nell'episodio 4 la più bella quella alla fine il bacio tra Usopp e Kaia che nel manga non c'è ma ho apprezzato tantissimo questa scelta è stata una presa di posizione da parte degli sceneggiatori perché è palese che tra Usopp e Kaia ci sia un rapporto che va oltre la semplice amicizia quindi questa è stata una differenza che mi è piaciuta molto passiamo adesso al prossimo episodio l'episodio 5 la prima differenza che si può notare anche se si tratta oggettivamente di una piccolezza è che nella live action a differenza del manga non appaiono mai Johnny e Yosaku i due cacciatori di taglie due vecchie conoscenze di Zoro ma la prima differenza sostanziale che si può notare tra live action e manga è l'ingresso al barati da parte dei nostri dei Mugiwara perché nella live action avviene tutto in maniera molto molto calma cioè i nostri entrano come dei veri e propri clienti che stanno per entrare in un ristorante e il manga non è proprio così perché loro ci provano ad entrare pacificamente però il caso vuole che all'interno del barati ci sia un tenente della marina full body che vede questa nave pirata la nave dei Mugiwara la Queen Mary e spara delle cannonate decide di attaccarla allora Luffy reagisce fa rimbalzare la palla di cannone e per sbaglio insomma sbaglia la mira e colpisce in pieno una parte del barati di fatto staccando una parte della facciata un'altra differenza che si può notare è all'interno del barati ed è molto importante perché nell'ivection colui che insomma assegna i tavoli ai nuovi clienti è un uomo pesce cosa che nel manga non succede però nell'ivection ha un senso perché si ricollega poi all'arrivo di Arlong e poi al suo monologo sul fatto che la razza degli uomini pesce sia quella superiore eccetera eccetera perché poi a un certo punto gli dirà anche ah tu uomo pesce razza superiore ti ritrovi a prendere le ordinazioni ai tavoli in un ristorante di esseri umani guarda come ti sei ridotto quindi la presenza di quell'uomo pesce serve sostanzialmente a giustificare il collegamento tra Arlong e il barati la presentazione di Sanji anche questa costituisce una differenza tra live action e manga perché nell'ivection Sanji interviene per la prima volta per sedare una rissa tra due individui uno ha i capelli rosa quindi in teoria dovrebbe essere full body anche se non c'è mai la presentazione come marine eccetera eccetera e quindi Sanji interviene per sedare questa rissa non ci riesce e li stende entrambi nel manga la situazione è molto diversa perché full body si lamenta del fatto che nella sua zuppa sia finito un muscerino Sanji gli risponde in modo molto ironico molto sarcastico e full body arrabbiato per l'umiliazione getta a terra il piatto con la zuppa Sanji si incassa di brutto perché odia gli sprechi e lo malmena quindi quella nel manga è la presentazione di Sanji che ci fa capire anche meglio il suo odio per chi spreca il cibo di fatto non è altro che un preludio a quello che poi sarà tutta la spiegazione del suo odio nei confronti di chi spreca il cibo attraverso il flashback con Zef altro elemento importante di differenza l'arrivo di Miok nel live action Miok arriva dopo aver sconfitto Krieg per i fatti suoi perché lo ha chiamato Garp Garp che gli affida una missione tieni d'occhio Luffy cappello di paglia che in questo momento si trova al Baratì quindi Miok si dirige al Baratì apposta per cercare Luffy e la sua ciurma su ordine di Garp non è ovviamente quello che succede nel manga perché nel manga Miok sta inseguendo Don Krieg che sta scappando da lui e che si rifugia al Baratì ed è così che Miok arriva al Baratì quindi non c'è un ordine di Garp e questo chiaramente ci riporta ad altre due differenze la prima è quella al punto del personaggio di Don Krieg che a differenza del manga nell'live action viene fatto fuori da Miok prima ancora che arrivi al Baratì la seconda è la differenza relativa a Jin uno dei membri dell'equipaggio di Don Krieg che nel manga ha un ruolo fondamentale sostanzialmente perché arriva al Baratì Sanji lo accoglie lo sfama perché secondo la morale di Sanji chiunque sia affamato deve essere sfamato e poi Jin si rivelerà un personaggio insomma molto indeciso molto confuso che si ritroverà a tradire anche Sanji a combattere contro di lui per difendere il vessillo del suo capitano Don Krieg mentre nell'live action Jin arriva praticamente come un qualsiasi uomo che è naufragato e che ha bisogno di mangiare e non viene mai ufficialmente accostato a Don Krieg lui dice che insomma il suo equipaggio ha tentato di andare nel nuovo mondo è andata malissimo hanno perso un sacco di uomini però non dice mai che è un sottoposto di Don Krieg altra differenza riguarda Garp perché insomma in tutti gli episodi c'è uno sviluppo continuo sia del personaggio di Garp sia del suo rapporto con Kobe e del Meppo soprattutto con Kobe e una differenza che nel manga di fatto arriva molto dopo è che nel live action in questo episodio Garp spiega a Kobe che se lui avesse voluto sarebbe diventato un ammiraglio non ha voluto perché vuole sempre fare le cose a modo proprio ecco in realtà c'è una differenza perché nel manga questo dialogo non avviene con Kobe innanzitutto e non avviene adesso avviene praticamente nei pressi delle velie quando Garp dice che lui non è diventato ammiraglio per non sottostare agli ordini diretti dei draghi celesti quindi il suo è un astio soprattutto nei confronti dei draghi celesti non di chiunque gli dia degli ordini ultima differenza di questo episodio consiste nel fatto che Nami nella live action assiste allo scontro tra Zoro e Miuk e poi nasce addirittura una discussione perché Nami se la prende con Luffy per non aver fermato Zoro visto che insomma era palese che sarebbe andato incontro a una sconfitta certa e rischia di fatto la vita la differenza sta nel fatto che non solo nel manga non c'è alcuna discussione in merito ma Nami neanche neanche vede lo scontro tra Zoro e Miuk perché va via abbandona tra virgolette i Mugiwara andando verso Arlong Park ancora prima che lo scontro tra Zoro e Miuk abbia luogo al Barati e passiamo all'episodio 6 che si apre de facto con il flashback di Sanji e Zef la prima differenza che si nota allora devo dire che il flashback è trasposto veramente fedelmente proprio uno a uno l'unica cosa diciamo che per trovare il pelo nell'uovo è che dopo il settantesimo giorno di stenti magari avrebbero potuto far sì che l'attore di Sanji il bimbo insomma sembrasse un po' più magro un po' più deperito visto che dopo 70 giorni di stenti avere ancora quelle guance paffutelle avere soltanto un po' di sporcizia fa venire meno un po' di realismo però è veramente una cosa proprio per fare il pignolo perché poi il flashback è veramente trasposto da Dio la prossima differenza è molto importante perché è un cambio di trama netto Arlong arriva al Barati questa cosa non accade mai nel manga non solo perché proprio al Barati nel live action Luffy ha il suo primo approccio con Arlong ed è in questo istante che dice la famosa frase chi di voi è Arlong questa frase in realtà nel manga Luffy la dice ad Arlong Park nel momento in cui viene a sapere che il problema di Nami è Arlong allora lui sfonda il muro con un pugno e dice chi di voi è Arlong affrontandolo subito dopo intanto nel live action Usopp Nami e Sanji si prendono cura di Zoro cosa che nel manga chiaramente non esiste quindi altra piccola differenza altra differenza sta nell'addio di Sanji al Barati perché nel live action accade tutto praticamente con una certa fretta insomma Sanji capisce di voler inseguire il proprio sogno allora c'è l'addio commovente nei confronti di Zef tutto molto triste tutto molto bello la parte è stata oggettivamente molto bella però nel manga il momento ha molto più pathos e molto più dettagliato molto più costruito perché nel manga fondamentalmente Sanji viene praticamente rifiutato da tutti i cuochi e da Zef viene insultato gli dicono che i suoi piatti fanno schifo che sarebbe meglio che se ne vada eccetera eccetera e quando Sanji effettivamente si arrabbia ed esce dal locale frustrato sente tutti quanti all'interno che parlano e che dicono che quello cioè trattarlo male era l'unico modo per costringerlo ad andare via e a fargli insomma tentare di inseguire il suo sogno cioè trovare l'all blue tutte queste parole Sanji le ascolta quindi nel momento in cui c'è l'addio è chiaro che nel manga risulta molto più commovente soprattutto per l'inchino di Sanji nei confronti di Zef quando gli dice io ti devo la mia vita cosa che nel live action non succede cioè gli dice questa frase ma non si inginocchia insomma la differenza sta sostanzialmente nel pathos che la scena del manga trasmette in più rispetto a quella del live action passiamo all'episodio 7 dove ci immergiamo finalmente ad Arlong Park in quella che è la saga finale di questa stagione la prima differenza sostanziale sta nel comportamento di Zoro perché nel live action Zoro appare come quello più diffidente in assoluto nei confronti di Nami cioè per lui il fatto che Nami se ne sia andata e li abbia traditi di fatto stabilisce un punto cioè Zoro dice non possiamo fidarci di lei è lei che ha detto che non vuole il nostro aiuto è lei che ha detto che in realtà fa parte della ciurma di Arlong eccetera eccetera nel manga non è così nel manga Zoro praticamente è la prima persona che appura veramente che Nami in realtà è costretta a fare quello che fa perché nel manga Zoro si dirige ad Arlong Park viene catturato viene legato e per mettere alla prova Nami si getta in acqua da legato quindi pronto ad annegare perché lo fa? perché vuole vedere se Nami lo salverebbe e di fatto Nami lo salva quindi Zoro fa 2 più 2 e capisce che in realtà Nami non è un'assassina non è una vera componente del gruppo di Arlong e c'è qualcosa sotto infatti cos'è che fa Zoro? quando Nami di nascosto lo libera lui in un primo momento scappa ma poi si fa accompagnare da Hachan ovviamente lui non ne sapeva niente Hachan dell'identità di Zoro nel manga e Zoro arriva ad Arlong Park e sbaraglia tutti gli uomini pesce mentre Arlong è assente quindi nel manga Zoro prende in mano la causa Nami molto prima che lo facciano tutti gli altri cosa che nell'evection non succede perché di fatto è l'unico che si oppone alla questione altra differenza visto che l'ho appena menzionato nell'evection non spunta il personaggio di Hachan minimamente e questa cosa mi ha un po' spiazzato perché teoricamente è un personaggio molto importante anche per la trama futura dell'opera quindi nel manga è molto importante Hachan però nell'evection non c'è altra cosa che invece c'è nell'evection e non c'è nel manga è il dialogo tra Garp e Zef al Baratì in cui Garp gli chiede dove siano andati i luffi e gli altri eccetera eccetera ma la differenza più incredibile di quest'episodio e sinceramente è l'unica differenza che veramente non mi è piaciuta riguarda la storia di Nami il flashback e il modo in cui Nojiko lo racconta a Imugiwara perché nell'evection né Nojiko né Genzo né tutto il villaggio di Coconut sanno del piano di Nami non ne sanno niente quindi la odiano per essersi unita a colui che ha devastato il villaggio e che ha ucciso Belmer nel live action Nojiko viene a sapere del piano di Nami dei 100 milioni per comprare il villaggio solamente quando nel presente Nezumi si presenta per ordine di Arlung e sequestra a Nami i 100 milioni lì Nojiko apprende il fatto che Nami stesse raccogliendo quei soldi per salvare il villaggio e allora la perdona nel manga quest'odio non c'è mai stato né da parte di Nojiko né da parte di Genzo né da parte di tutto il villaggio perché sanno fin dall'inizio del piano di Nami Nami racconta il suo piano a Nojiko quando sono due bambine infatti altra differenza Nojiko quando spiega tutta la storia di Nami ai Mugiwara nell'ivection omette la parte dei 100 milioni perché nell'ivection non lo sa mentre nel manga si ma avviene diversamente anche un'altra cosa molto importante nell'ivection Nojiko racconta la storia di Nami a tutti i Mugiwara nel manga non è così perché a un certo punto quando Nojiko sta per raccontare il flashback di Nami tutta la storia di Nami Luffy prende e se ne va perché dice a me non interessa se ne va questa simbolicamente è un'azione molto forte che inizialmente i nostri cioè i Mugiwara non capiscono ma il lettore lo capisce perché Luffy si comporta in questo modo cioè a Luffy non interessa niente della storia di Nami non perché è un insensibile ma perché vuole soltanto che Nami gli chieda esplicitamente di aiutarla di essere aiutata e allora in quel momento Luffy non vuole non gli serve una storia per farsi coinvolgere emotivamente vuole soltanto la richiesta esplicita di Nami richiesta che arriva poco dopo quando Nami è in preda alla disperazione nel live action invece Luffy ascolta tutte le parole di Nojiko insieme agli altri e c'è la classica scena badass del tipo ah adesso che so la storia di Nami ci penso io vado a fare il culo ad Arlung quando in realtà nel manga non è affatto così ed eccoci giunti finalmente all'ottavo episodio quello che chiude questa prima stagione la prima differenza sta proprio nelle battute finali in quello che riguarda proprio gli scontri dei Mugiwara contro Arlung e la sua ciurma per quanto riguarda lo scontro di Usop è trasposto fedelmente ma lo stesso non si può dire degli scontri di Zoro e Sanji perché nel manga Zoro si scontra con Achan che come abbiamo visto nella live action non c'è mentre Sanji sconfigge da solo Kurobi invece nella live action i due in un primo momento cooperano per combattere contro Kurobi anche se poi comunque le battute finali con tutte tutte le escalation di mosse una dietro l'altra la dà comunque Sanji quindi comunque a mettere KO Kurobi e Sanji la differenza però più grande riguarda proprio lo scontro tra Luffy e Arlung perché nel manga Luffy inizia a distruggere tutto dell'Arlung Park quindi sia le componenti interne che poi alla fine con l'ultimo colpo tutto l'edificio dopo che sente dire ad Arlung che lui vuole sfruttare Nami proprio vuole sfruttare la sua abilità nel disegnare cartine e vuole sfruttarla per tutta la vita rendendola proprio una schiava quando sente quelle parole Luffy dà di matto chiaramente e la prima cosa che fa nel manga è iniziare a prendere insomma la scrivania le penne tutto quanto è iniziare a gettare tutto questo fuori dalle finestre Nami dall'esterno se ne accorge e capisce quella che è l'intenzione dietro al gesto di Luffy Luffy gettando via tutte quelle cose dalle finestre dell'edificio sta dimostrando che sta tagliando i ponti sta tagliando tutti i legami tra Nami e Arlung nel live action purtroppo questo non succede perché il crollo dell'edificio è quasi una conseguenza dello scontro una banalissima conseguenza dello scontro quindi manca la componente simbolica che ci dà anche maggior pathos poi per quanto riguarda tutta la parte finale dell'episodio riguardante proprio l'arrivo di Garp che insomma dice a Luffy che in realtà l'ha sempre messo alla prova per vedere se sapeva chi fosse eccetera eccetera questa è una cosa puramente nuova che riguarda soltanto il live action perché nel manga non è mai accaduta altra differenza l'addio tra Luffy e Kobe nel live action è molto commovente per certi versi con molto pathos però nel manga avviene molto prima di Arlong Park avviene praticamente a Shellstown e in quell'occasione Kobe si ritrova a dover fare i conti con un bivio scegliere l'amicizia di Luffy e rinunciare a fare il marine oppure ripudiare l'amicizia con Luffy per arruolarsi allora in quell'istante lui decide che vuole prendere in mano il suo sogno rinnega di conoscere Luffy e quindi si arruola e poi c'è tutta la scena tra l'altro bellissima dei Marines che ringraziano Luffy perché li ha liberati dalla presenza di Morgan Manodash e fanno il saluto nei confronti di Luffy salvo poi poco dopo insomma autoinfliggersi una punizione perché hanno fatto il saluto Marine a un pirata quindi tutte queste componenti mancano perché l'addio tra Luffy e Kobe nell'ave action non avviene a Shellstown bensì dopo gli avvenimenti di Arlong Park penultima differenza riguarda l'incontro tra Shanks e Mihawk perché nell'ave action c'è la battuta che mi ha fatto ridere più di tutte le altre in tutta la serie ovvero quella che Shanks fa a Mihawk quando gli dice posso batterti anche con un braccio legato dietro alla schiena gli fa vedere l'indumento insomma che penzola ecco quella scena mi ha fatto riderissimo però questa battuta nel manga non c'è è una cosa completamente nuova che comunque io ho trovato molto geniale nel live action ma nel manga Shanks si limita soltanto a fare un po' il duro e a rispondere a tono a Mihawk salvo poi cinque minuti dopo iniziare a ridere a scherzare a bere quando scopre che Luffy è diventato finalmente un pirata famoso e l'ultima differenza dell'ultimo episodio riguarda la famosissima scena del barile quella in cui tutti i Mugiwara mettono un piede sopra il barile e fanno la loro promessa e il loro giuramento nel live action questo questo momento accade proprio dopo Arlong Park prima di arrivare al lockdown mentre nel manga questo momento accade molto dopo la fuga di lockdown accade praticamente quando i nostri sono in procinto di entrare nella Grand Line quindi quando abbandonano il promontorio gemelli quindi c'è questa differenza temporale e tra l'altro ultima chicca nel manga quando fanno il giuramento c'è praticamente una tempesta incredibile pioggia vento fulmini e tutto quanto mentre nel live action c'è un sole che spacca le pietre quindi picciotti siamo giunti alla conclusione di questo video spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo che questa non è un'analisi di errori compiuti nel live action è stata soltanto un'analisi delle differenze tra live action e manga differenze volute quindi non esistono errori ovviamente in alcune di queste differenze mi sono sbilanciato dato un parere personale dicendo se mi piacessero o meno però in ogni caso si tratta di differenze volute io vi ringrazio per aver seguito fin qui ci vediamo alla prossima e sayonara grazie a tutti